vuoi ballare? vuoi ballare? no, no, voglio andare a casa mia andiamoci, ci porti in un posto tranquillo questo l'ho già sentito dire no, no, questa volta è vero non ci può essere nessuno, è chiuso per ferie ma che mi vuoi portare a letto, Pausto? Giulia, ma che dici? è vero che tu sei l'amico ma non l'abbiamo già fatto, Pausto? sono così confusa non ti preoccupare, hai bisogno di tempo Giulia, mi sento così precaria Pausto, il Capodanno è una festa così triste ma solo tu mi conosci veramente, forse sì, sì, è vero